Con un programma di iniziative che hanno preso il via oggi e si prolungheranno fino alla fine del mese, Napoli celebra il 27 gennaio, giornata della memoria, che quest'anno coincide con l'ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali. Un calendario di incontri, mostre, spettacoli, proiezioni cinematografiche che il Comune di Napoli ha messo a punto con la collaborazione di enti e associazioni e che si rivolge soprattutto alle scuole per sensibilizzare i più giovani al tema della memoria. Le scuole sanno benissimo di essere i presidi a più alta densità educativa ed è per questo che noi le coinvolgiamo volentieri nel programma che viene fuori dalla messa in rete di tante iniziative, iniziative che partono dalle associazioni, che partono ovviamente dalla comunità ebraica, che partono dall'AMPI, che partono dall'Archighei, che partono dall'allargamento del tema della Shoah fino a comprendere tutte le forme di persecuzione. La mostra sulla persecuzione degli ebrei in Italia, inaugurata oggi alla Camera di Commercio, alla presenza tra gli altri del sindaco Luigi De Magistris, è il primo degli appuntamenti dedicati al ricordo della Shoah. Articolata in tre sezioni, l'esposizione è promossa dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno con la Prefettura e si potrà visitare fino al 23 febbraio. Bisogna raccontarle queste cose, non dimenticarle, perché oggi, a distanza di tanti anni, c'è chi fa un uso spregiudicato e ignobile esattamente di termini assai similari a quelli che venivano usati in quei tempi. E i fascismi si possono riproporre, le dittature non è che vengono sconfitte per sempre. La mobilitazione deve continuare a camminare nelle gambe degli uomini, vivere nel cuore delle persone e, come dire, marciare nelle battaglie che bisogna fare per la libertà e per la democrazia. Gli eventi proseguiranno domani, 24 gennaio, al Convento di San Domenico, con la proiezione integrale del discorso di Mussolini nell'ambito della mostra a luce e l'immaginario italiano a Napoli. Giovedì 25 uno spettacolo per le scuole al nuovo Teatro Sanità, mostre documentari all'Istituto Campano per la Storia della Resistenza e venerdì 26 gennaio, oltre alle celebrazioni istituzionali in ricordo di Luciana Pacifici, anche la nuova edizione del progetto Memorie promosso dalla Fondazione Valenzi. Vorrei ricordare che durante la Shoah furono un milione i bambini ebrei trucidati, massacrati, avviati ai forni crematorio, su cui addirittura i medici nazisti compirono ferati, tra virgolette, sperimenti, diciamo, di eugenetica. Quindi tutte queste cose sono tali da doverci richiamare alle nostre responsabilità. Fino a fine mese proseguono le iniziative di Archimovie con incontri e film sulla Shoah dedicati alle scuole.